Fra i grandi ufficiali c'è Angela Maria Cingolani Guidi, sindaco di Palestrina, che è stata in Italia la prima donna chiamata a ricoprire la carica di sottosegretario di Stato. Fu anche consultrice nazionale nell'Assemblea Costituente. Era un periodo in cui c'era molta diffidenza nei riguardi delle donne che entravano a far parte della vita politica. E naturalmente parlando per la prima volta nell'aula parlamentare vedevo i visi dei miei colleghi che erano in attesa, ero anche un po' confusa, anche il Presidente del Consiglio che era a Parri stava ad ascoltare. Allora mi scappò fuori una frase e dissi questo, Il Signor Presidente del Consiglio in fondo abbia fiducia per le donne che tanto peggio di quello che hanno fatto gli uomini non potranno mai fare.